Si spengono i riflettori sulla campagna elettorale a Giuliano e con essi anche le serrande al corso campano. In questi mesi dedicati alla politica, quella che dovrebbe essere la strada principale dello shopping cittadino è stata animata da decine di comitati elettorali, i quali hanno trovato spazio nelle diverse attività commerciali che hanno chiuso i battenti. Nel corso degli ultimi tempi sono tantissimi negozi che hanno abbassato le saracinesche, tra via Roma ed il Corso. Una crisi nera, quella del commercio in città. Un tempo queste strade erano il crocevia dello shopping di tutta l'area nord. Prestigiosi negozi d'abbigliamento, locali di ristorazione, bar, trucchi e profumi. Poi è cambiato tutto, così oggi invece di passeggiare tra le vetrine allestite ci si trova di fronte a cancelli sbarrati, serrandi abbassate e diversi cartelloni con la scritta Fittasi ovunque. Alcuni negozi sono chiusi da diversi anni, locali che restano abbandonati, dimenticati, alcune vetrine diventano addirittura pattumiera per cartacce. Anche attività storiche hanno deciso di chiudere i battenti proprio come è accaduto alla gioielleria Pennacchio di Corso Campano che dopo l'ultima rapina all'interno dello store ha deciso di cedere l'attività. Passeggiando per le vie del centro è un susseguirsi di attività chiuse, l'una accanto all'altra. Sono solo pochi i negozi che riescono a restare aperti. Adesso restano ancora cartelloni e manifesti in locali allestiti per i comitati elettorali, ma da qui a poco anche questi scompariranno e il Corso Campano ritornerà ad avere le saracinesche abbassate a dispetto dei fasti di un tempo.